e anche in questa quinta domenica del tempo ordinario ritroviamo il nostro amico biblista padre ernesto della corte buona pasqua della settimana padre ernesto buona pasqua a voi oggi abbiamo sale e luce di cui parlare il primo per dare sapore e brucia la seconda la luce per far luce appunto ed è quella che poi smaschera si diciamo che domenica scorsa avendo celebrato di domenica perché capitava proprio così la festa dell'ipapante la presentazione del signore al tempio in realtà abbiamo saltato una pagina fondamentale speriamo di poterla recuperare quando verrà ricelebrata durante l'anno praticamente la pagina delle beatitudini sulla quale il papa ha iniziato già da due settimane una sua la sua catechesi del mercoledì perché le beatitudini offrono il senso della vita e il testo di oggi è una sorta di allargamento di quella pagina infatti noi leggiamo i versetti da 5 e 13 fino a 16 le beatitudini sono i primi 12 versetti del capitolo 5 di di matteo potremmo dire che siamo nella chiave di violino di tutto uno spartito che è il discorso della montagna una sorta di regola di vita un faro luminoso per navigare nella storia e seguire cristo nella fedeltà matteo ci mette questi due detti di gesù rivolti ai discepoli per chiarire a loro come a noi oggi quale errore la missione che abbiamo nei confronti del mondo immagini innanzitutto molto semplici vorrei far come dire notare sono immagini quotidiane la luce sale richiamano appunto gesti familiari concreti ma sono fondamentali e chiunque capisce bene cosa vuol dire che una minestra insipida o una stanza al buio va via la corrente siamo senza nulla a un certo punto scompare tutto il buio fa paura anche ai bambini ai discepoli gesù chiede appunto queste due immagini siate sale siate luce del mondo il sale nella bibbia e anche molta gente non lo sa un elemento di comunione fra alleati in certi popoli quando tu arrivi e sei ospite ti offrono un pezzo di pane che tu devi mettere nel sale e mangiarlo in segno di comunione si usava nei sacrifici il sale davvero qualcosa di importante per cui l'immagine che dà anche il senso del gusto del sapore se c'è poco sale il cibo non sa di niente così il sale diventa anche nella bibbia simbolo di sapienza intesa come capacità di gustare la vita avere il senso di dio tra l'altro per gli antichi che non avevano i nostri frigoriferi moderni il sale fino a 50 60 anni fa ma ancora oggi molti cibi si salano per conservarli ma anche come dicevi tu anna maria all'inizio per disinfettare quindi il sale disinfetta prima del concilio quando si faceva il battesimo il sacerdote metteva sulla lingua del neonato un pizzico di sale a indicare proprio la sapienza quindi la simbologia del sale condisce conserva purifica è veramente interessante però questo sale può diventare moros può diventare insipido anche per noi diciamo quelle una persona insipiente per dire non saggia e senza sale quindi le parole di gesù ci fanno molto riflettere che cosa vuole dirci oggi gesù come cristiani come chiesa noi siamo chiamati a offrire all'umanità l'autentico gusto della vita noi dovremmo essere testimoni di una vita bella di una vita buona di una vita beata gustosa che la fede davvero guida beati 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 ha detto gesù nelle beatitudini cioè chi trova il senso della vita chi incontra in modo saporoso il padre quindi cristo non ci affida di essere lo zucchero del mondo lo zucchero che fa anche tanto male certe volte come siamo oggi tutti malati di per la glicemia ci ha chiesto non di essere zucchero ma sale noi non dobbiamo addolcire ma dare sapore dare gusto immagine davvero molto bella rivela che gesù è un ottimo osservatore anche un grande pedagogo no vuole dirci che con quel pizzico di sale come si esaltano i sapori dei cibi così la presenza di discepoli nella storia può dare maggiore sapore alla realtà di ogni giorno pensate ai santi che cosa non hanno fatto i santi sono stati il sale il nostro padre pio penso a per giorgio frassati un giovane alla beretta mollo una mamma medico ecco gesù dice attenzione però che il sale non perde il sapore e noi non abbiamo queste tradizioni ma dobbiamo sapere che quel sale estratto dal mar morto solo un terzo era il sale da cucina buono per per usare poi come cibo cibo umano l'altro veniva scartato e quando si faceva questa mistura all'aperto era facile che con l'umidità si potesse effettivamente rovinare anche il sale buono e quindi veniva gettato sulla strada la gente passando lo calpestava è una come dire sono associazioni di idee che sono tipiche di quell'epoca il sale non è mai per sé stesso il sale sempre messo su qualcosa deve condire deve dare gusto e così un po deve essere il cristiano altrimenti se non è se non da sale se non da gusto alla storia la vita che senso ha ecco allora le immagini di gesù essere oltre un modo di pensare e di vivere dare gusto alla storia dobbiamo essere come la città sul monte è chiaro che si vede quando passiamo per l'autostrada chi di noi non vede ad esempio quella bellissima città di orvieto si vede da lontano quella cattedrale che davvero spicca su tutta la città la città sul monte viene vista la lampada messa sopra il candelabro è chiaramente visibile un altro punto di riferimento per dire che i discepoli di gesù devono essere un punto di orientamento essere la luce del mondo quindi far apparire ogni cosa nel suo vero aspetto e l'immagine della luce tra l'altro è molto comune nell'antico testamento la luce la prima creatura che dio offre all'umanità che al buio non vede chi li sta intorno quindi non sa dove va non ha il senso della vita non è beato chi è beato ha il senso della vita la luce è indispensabile per permettere agli occhi di vedere la stessa vita dipende da quella sintesi clorofiliana grazie alla luce quindi ogni giorno le piante ci offrono ossigeno grazie a quella luce ecco perché gesù dice così risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il padre ecco perché viene chiesto a noi come discepoli di cristo di restare sempre in una posizione visibile che vuol dire persistere nel bene evitare una delle malattie dei cancri peggiori che possiamo avere la mediocrità e ce n'è un altro che ancora peggiore la simulazione far finta di mediocrità e simulazione no noi dobbiamo essere invece visibili non mettersi in mostra attenzione però essere visibili con uno stile che va oltre ma non mettersi in mostra pensandosi migliori degli altri ecco perché gesù dirà proprio in matteo 6 1 guardatevi da praticare la vostra giustizia davanti agli uomini non fate finta non fate il palcoscenico tanto per essere osservati altrimenti non avrete premio presso il padre vostro che nei cieli testimoniare non è mettersi in mostra i discepoli che si nascondono e non accolgono il loro compito non adempiano al comando di essere luce oppure quelli che vogliono solo apparire ma non lo sono sono sale senza sapore quindi rinunciano alla loro identità si schematizzano con quella mentalità egoistica che è tipica del mondo e invece no la missione di discepoli è quella di stimolare di attirare essere visibili non nascondersi essere sale che dà gusto luce che illumina difendendo e testimoniando la nostra identità non dobbiamo uniformarci agli schemi del mondo ma noi come dice la lettera di ogni eto dobbiamo essere l'anima del mondo che bella quella lettera di ogni eto che va sempre riscoperta no cristiani vivono come tutti gli altri però 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 sono diversi se noi non siamo presenti nei vari ambienti se noi non continuiamo a dare gusto se non c'è uno stile che è tipico come quello di gesù se la nostra vita non diventa una testimonianza luminosa perdiamo la nostra identità e come il sale viene buttato via così anche noi non siamo capaci di far prendere sapore alle cose che ci circondano nella storia per cui è importante secondo quel costumo orientale il sale che non è buono viene buttato via e la gente passando lo calpesta quando noi perdiamo valore diveniamo spregevole tutto sommato oggi gesù cosa ci dice siamo inviati nel mondo per insaporirlo e per illuminarlo come con il vangelo come dobbiamo farlo andando incontro alle necessità dell'umanità condividendo bisogna veramente far sentire agli altri che lo cerchiamo che li amiamo come noi siamo sostenuti da dio per questo la chiesa in mezzo al mondo deve essere l'icona della misericordia del padre che tutti cerca per condurre a casa e a me piace una frase che riassume sempre volentieri il mio pensiero quando non si vede più la nostra differenza quando cala decresce la differenza del nostro stile di vita cristiano evangelico cresce di indifferenza degli altri per cui non dobbiamo puntare il dito contro gli altri ma dovremmo chiederci noi come persone come comunità siamo davvero quel sale quella luce si vede la differenza del nostro modo di vivere nelle cose più quotidiane più più feriali perché se davvero la fede il vangelo illumina la nostra vita noi siamo sale e luce senza dirlo ma vivendolo fino in fondo questa è la realtà che gesù ci chiede di incarnare ogni giorno bellissimo questo tuo commento al vangelo di oggi alla liturgia del giorno padre ernesto alcune frasi andrebbero estrapolate e tenute fisse davanti agli occhi per poter andare avanti con lo stesso stile di gesù perché a volte siamo tentati ad uniformarci ed è la cosa peggiore io non dico mai che gli altri non mi accolgono dico che forse sono io che non sono capace di far vedere il mio modo diverso i cristiani si sposano lavorano hanno i figli si divertono giocano vanno a messa il problema è come lo fanno qualche giorno fa scrivevo perché ad esempio i cristiani più ricchi non condividono come proprio lui che ci racconta nel suo terzo vangelo la condivisione qualche settimana fa per questo virus il coronavirus bill gates che ha ormai dedicato la sua vita a fare del bene ha stanziato milioni di dollari proprio per la ricerca è quello che dice gesù a chi è molto ricco condividi con la ricchezza perché un domani i poveri ti accoglieranno che gusto c'è a fare soldi e a vedere gente che vive in miseria che non ha la capacità di poter a fine mese arrivare c'è gente che non può mettere il pane a casa c'è gente che il pane lo butta e butta la carne che dei pao per i beni che tiene dovremmo imparare che c'è più gioia nel dare che nel ricevere dice gesù questo è questa direi questo sale questa luce che il mondo capisce comprende e apprezza bella 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 questa riflessione grazie padre ernesto di cuore grazie a dio e buona pasqua della settimana anche a te shalom ciao